L'autopsia è terminata da poco, dalle prime indiscrezioni Piero Bruni e Filippo Bagni sono morti per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno causata proprio dal gas Argon. La procura di Arezzo indaga per omicidio colposo plurimo. I primi scritti nel registro degli indagati sono Alessio Vannaroni, ingegnere responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'Aigeam di Roma, azienda leader a livello nazionale che si occupa proprio di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. De l'Aigeam anche l'architetto Monica Scirpa, finita anche lei tra gli indagati, così come Claudio Saviotti, direttore dell'archivio di Stato di Arezzo e Maurizio Morelli della Remas Antincendio. Il quinto avviso di garanzia riguarda invece il geometra Gianfranco Conti che si occupava della manutenzione del sistema elettrico dell'antincendio dell'archivio di Stato. Le indagini dovranno capire che cosa è successo quel drammatico giovedì e di chi sono le responsabilità, che cosa è andato storto, perché Filippo Bagni e Piero Bruni sono andati nella stanza dove sono installate le bombole di gas Argon. Una scelta che si è rivelata una trappola. Domani alle 15.30 ci sarà il funerale di Bruni, quello di Filippo Bagni mercoledì mattina. Sempre mercoledì ci sarà una giornata di sciopero generale e un presidio di fronte all'archivio di Stato di Arezzo.